Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione di Spazio Professioni. Vediamo insieme le notizie di questa settimana. Banca Popolare di Vicenza, ConfProfessioni, Fidi Prof Nord e Fidi Prof Centro Sud hanno siglato un accordo con il quale la banca offre la possibilità ad oltre un milione e mezzo di liberi professionisti e di studi di dotarsi del dispositivo POS a costo zero e facilita l'accesso al credito per gli aderenti ai due confidi. Sentiamo di cosa si tratta nelle interviste realizzate dalla nostra inviata a Roma, già da Cuomo. Per agevolare le imprese professionisti, Banca Popolare di Vicenza propone una gamma di servizi. Di cosa si tratta in particolare? È di fatto il classico conto corrente a cui aggiungiamo la novità del canone zero. Quindi un conto completamente gratuito a cui affianchiamo anche la possibilità di avere una carta ricaricabile, quindi che svincola il professionista dal conto corrente. Di fatto è un conto corrente attascabile al quale poter collegare anche dei servizi evoluti tipo il POS. Per quanto riguarda il POS, la vera novità che offriamo a livello nazionale è quella della completa gratuità sia in termini di installazione sia in termini di canone mensile di manutenzione e gestione sia, ed è qui veramente l'investimento importante che la banca ha fatto, in termini di transato Pago Bancomat ovvero la banca si assume tutti i costi e non ribalta niente sul professionista quindi il professionista avrà completamente gratuito il servizio compreso il transato Pago Bancomat. I professionisti sono sempre considerati tali e questa misura il governo forse l'ha fatta appunto per rendere più tracciabili i pagamenti ma i professionisti utilizzano già altre modalità di pagamento e quindi bonifici, assegni bancari o altro e per alcune categorie professionali soprattutto quelle che non lavorano con i privati addirittura è ben difficile che possano utilizzare questo strumento può diventare uno strumento utile invece per favorire, per agevolare il cliente quando vuole pagare le prestazioni professionali visto che spesso, non dico che si dimentichi ma ritarda anche lui come gli altri questo se c'è uno strumento di questo tipo e uno studio professionale e soprattutto nelle misure in cui noi l'abbiamo proposto cioè praticamente a costo zero ecco che l'ora può essere incentivante per i professionisti ad adottarsi di questo strumento e soprattutto per il cliente utilizzarlo per il pagamento delle sue prestazioni professionali Quali le principali necessità dei professionisti nella gestione del credito, nell'attività di studio e se ci sono particolari esigenze finanziarie per alcuni professionisti? I professionisti, come diceva prima il Presidente oggi sono delle imprese sono delle imprese perché hanno una propria struttura e quindi si devono approvvigionare di un nuovo sistema informativo si devono ovviamente approvvigionare di locali si devono anche approvvigionare di dipendenti e quindi rientra nella normale attività di un'azienda e quindi la necessità di finanziare gli investimenti gli investimenti in tecnologie gli investimenti nelle loro location e anche ovviamente nel aiutarli ad anticipare i crediti che eventualmente il professionista ha nei confronti della pubblica amministrazione o della propria clientela Oggi noi abbiamo proposto il POS e quindi la possibilità anche per i professionisti di poter incassare con moneta elettronica e anche su questo ovviamente ci sono tutti quei finanziamenti che vanno dall'anticipo POS a tutti quei finanziamenti e quelle acevolazioni che interessano anche questo strumento che fino ad oggi non tutti i professionisti utilizzavano Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti con Gaetano Stella, Presidente di Conf Professioni Andrea Camporese, Presidente dell'ADEP ha siglato il protocollo d'intesa per la promozione del piano garanzia giovani nell'ambito degli studi professionali e tra i professionisti La collaborazione con il Ministero del Lavoro sulla garanzia giovani può rappresentare una risposta efficace per rilanciare le attività professionali in Italia colpite da una dura crisi che si riflette anche nel calo dei giovani che si avvicinano alla libera professione ha dichiarato Stella Vi segnalo ora un'interessante decisione giurisprudenziale Resta aperta la causa della commercialista che si difende dalla determinazione del maggior reddito operata dall'amministrazione giustificando lo scostamento dai parametri dell'articolo 3,184 della legge 549 del 95 in virtù della percezione oltre al reddito da lavoratore autonomo anche di quello da partecipazione in qualità di utile di socia di società di servizi nella quale svolgeva la sua attività professionale A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che rimette la causa ai giudici del rinvio dopo aver annullato la sentenza di merito Il Consiglio Nazionale Forense e la Scuola Superiore dell'Avvocatura operano da alcuni mesi per dare supporto alla tutela dei diritti degli immigrati a Lampedusa, l'isola siciliana simbolo del dramma senza fine dei naufraghi e dei morti in mare Gli avvocati presidiano a turno una sede sull'isola oltre che fare consulenza a distanza aiutando così le istituzioni locali la Capitaneria di Porto e le associazioni e organizzazioni non governative attraverso pareri giuridici per affrontare tutte le questioni relative all'arrivo dei migranti In tutto sono 60 avvocati e operano a titolo assolutamente volontario Caos in Senato sul DDL di riforma della Costituzione Ridurre gli emendamenti, votarli entro agosto e mandare alla prima settimana di settembre il voto finale erano i contenuti di una proposta di mediazione avanzata questa mattina a inizio dibattito dal senatore del PD Vannino Chiti un'apertura al confronto sul nuovo senato in nome dei fronte frondista lanciando una mediazione sui tempi delle riforme Massell non ci sta il convitato di pietra è il patto del Nazareno e scoppia così la lite con il PD Sarà l'aula di Palazzo Madama a decidere se il futuro senato dovrà essere eletto dai cittadini o dai consigli regionali come prevede il DDL del governo sulle riforme fallite le trattative su questo punto la parola passa agli stessi senatori governo e maggioranza sono sicuri dei propri numeri mentre gli oppositori puntano al voto segreto su alcuni emendamenti il presidente del Consiglio Matteo Renzi in una lunga giornata di trattative scrive una lettera appello ai senatori chiedendo di evitare a tutti i costi un umiliante ostruzionismo poi ai suoi spiega le condizioni della possibile trattativa via gli emendamenti una settimana in più per discutere ma se vogliono bloccare tutto diciamo di no il governo sarebbe quindi pronto a recepire poche e mirate modifiche per arrivare alla pausa estiva all'8 agosto solo con le dichiarazioni di voto finale e puntare al voto il 2 settembre nel frattempo viene rimandato il nuovo incontro tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi ed è proprio sull'incontro con Silvio Berlusconi il prossimo servizio dall'Ansa sentiamo quali sono i segnali che arrivano dal partito di Forza Italia su una possibile apertura al dialogo da Arcore giurano che l'indisposizione che ha costretto Silvio Berlusconi a disertare l'incontro con Matteo Renzi non abbia nulla a che vedere con la decisione del Presidente del Consiglio di mandare un segnale di apertura sulle preferenze in vista di una modifica della legge elettorale certo il Cavaliere è consapevole che per sbloccare l'impasso sulle riforme bisognerà mettere mano all'italicum ma allo stesso tempo sa che le preferenze sono un argomento indigeribile per gran parte di Forza Italia spetterà dunque ai due leader sbrogliare la matassa ma in attesa di fissare un nuovo incontro il messaggio inviato dall'ex premier a Palazzo Chigi è netto le modifiche vanno discusse insieme così come abbiamo fatto finora dunque nessuna disponibilità a discutere a meno che non si decida di rimettere mano di comune accordo al patto del Nazareno a metterlo nero su bianco e Paolo Romani capogruppo azzurro a Palazzo Madama non intendiamo valutare modifiche rispetto all'italicum testo che ha avuto un passaggio parlamentare complesso dove noi siamo stati protagonisti e chiudo con una notizia dal mondo del lavoro CGL riporta gli ultimi dati sull'occupazione in Italia sentiamo in Italia meno di un cittadino su due in età da lavoro ha un impiego il bel paese presenta infatti un tasso di occupazione del 48,7% superiore solo a quello della Grecia collocandosi così al penultimo posto nell'Eurozona all'ombra del Partenone comunque il tasso di disoccupazione supera il 25% mentre in Italia è il 12,2% in linea con la media europea a rilevarlo è uno studio dell'associazione Bruno Trentin della CGL realizzato su dati Istat la anomalia italiana del tasso di occupazione di quasi 8 punti inferiore alla media Eurozona a 18 viene spiegata nello studio con l'altissima percentuale di popolazione inattiva che nel nostro paese supera il 44% a fronte di una media europea del 36% in Italia ci sono infatti circa 20 milioni di persone in età compresa tra i 15 e 74 anni che si trovano in condizioni molto diverse e che comprendono anche studenti pensionati o persone che semplicemente non cercano e non sono disponibili a lavorare tra queste però quelle inattive che vorrebbero lavorare ricomprese dall'Istat nelle forze di lavoro potenziali sono oltre 3,2 milioni bene questa era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata grazie a tutti